E adesso invece andiamo a Pisa per la giornata della solidarietà. Gli studenti collegati in streaming si sono confrontati sui temi legati alla Costituzione. Poco fa l'appuntamento conclusivo sul Ponte di Mezzo. Francesco Cutro. La bandiera aissata sul Ponte di Mezzo ha concluso la giornata della solidarietà a Pisa e quella dell'associazione Nicola Ciardelli, in ricordo del maggiore morto in Iraq. Una cerimonia che arriva dopo un momento di condivisione tra gli studenti delle scuole della città. A partire da metà marzo si sono confrontati in streaming a causa delle limitazioni Covid su temi legati ai principi della Carta Costituzionale. Un progetto articolato in diverse sezioni, dalla cooperazione internazionale all'uguaglianza, alle pari opportunità, solo per citare alcuni temi che puntano a far comprendere quanto sia fondamentale il contributo di ognuno per raggiungere la pace basandosi sulla solidarietà. Valori con cui ogni anno l'associazione cerca di sensibilizzare le giovani generazioni. Nata dopo la morte nel 2006 del maggiore Nicola Ciardelli durante la missione antica Babilonia, l'associazione nel corso degli anni ha voluto rimarcare questo impegno civico aprendosi alla città. È un'iniziativa che fa parte ormai del patrimonio della città perché riteniamo che quella vita che è stata persa ormai oltre dieci anni fa possa aver rappresentato anche una sorta di punto di ripartenza. La manifestazione va da sostenuta, alimentata e aiutata.